Buongiorno e ben ritrovati a Di Prima Mattina. Martedì 17 maggio, anche quest'oggi stiamo insieme con la nostra rassegna stampa locale, le notizie dai quotidiani abruzzesi, il centro ed il messaggero, per iniziare i nostri spazi di informazione quotidiani nella nostra emittente Super J. Allora andiamo a vedere insieme immediatamente le prime pagine dei due quotidiani, partendo da quella del centro, prendiamo in considerazione l'edizione Teramana, ma il titolo d'apertura è dedicato alle sagre, le sagre che quest'anno tornano praticamente ovunque, dopo gli ultimi due anni legati al Covid, in cui in moltissimi casi queste manifestazioni tipiche erano state rinviate, tornano ovunque ma con prezzi più alti. Proloco Teramana è pronte a riproporre gli eventi, ma ritoccando i listini, vedremo meglio all'interno il perché, ma possiamo già anticipare che la motivazione è legata all'aumento dei costi e delle materie prime. Restiamo sul centro e troviamo nella fotonotizia centrale invece questa immagine di una capotreno di Trenitalia, perché la rete ferroviaria ha annunciato investimenti per 6 miliardi in Abruzzo, sia per quanto riguarda le vie ferrate, sia per quanto riguarda però anche le strade e la viabilità ordinaria. Poi vedremo meglio quali sono gli obiettivi di questo piano di investimenti, tra le principali il raddoppio della linea Pescara-Roma. Oggi è il giorno della partenza della decima tappa del Giro d'Italia da Pescara, con arrivo poi a Iesi, dopo la tappa di domenica che ha visto sul blockhouse il trionfo dell'australiano Hindley. Oggi la carovana rosa saluta l'Abruzzo per raggiungere appunto le marche, ci saranno anche delle chiusure alla viabilità ordinaria, vale a dire soprattutto sulla statale 16 Adriatica, in concomitanza appunto con il passaggio dei corridori. Turismo, c'è un articolo che parlerà all'interno del boom di prenotazioni sulle spiagge abruzzesi, ottime previsioni appunto per la stagione balneare dopo il primo weekend, quello appena passato in cui le spiagge sono state di fatto prese d'assalto. Altro titolo, sempre sulla prima pagina del centro, sulla politica di Teramo, con il sindaco D'Alberto che parla di Contisani, punto al bis, il sindaco replica all'opposizione e annuncia, programmeremo fino al 2026, dunque già guardando oltre, guardando al prossimo mandato evidentemente, in quanto nel capoluogo si tornerà al voto il prossimo anno. Nel taglio basso invece, a Pineto parte l'asta per l'ex mercatone, entro giugno le offerte per il complesso commerciale di Scerne, oggetto di fallimento, dunque fissata la prima asta per la vendita del complesso immobiliare. A Giulianova invece lutto per la morte di Mazzocchi, il postino con il sorriso, così viene ricordato questo personaggio molto noto in città. Per lo sport invece il basket di Serie B, il Roseto cerca in casa la vittoria bis nei play-off per tentare la scalata alla Serie A2. Chiudiamo con quest'altro notizio, quest'altro titolo della prima del centro, l'accoglienza in Abruzzo ai profughi dell'Ucraina, 6.500 gli arrivi, molti sono negli hotel. E anche in questo caso, tra poco vedremo meglio, la distribuzione appunto degli ospiti dell'Ucraina nella nostra regione. Lasciamo per il momento da parte la prima pagina del centro e passiamo a quella del messaggero, anche in questo caso l'edizione abruzzese. L'apertura è dedicata ad una notizia di cronaca, vedete qui il titolo, l'allevatore trovato impiccato. Siamo nell'Aquilano, la scoperta dopo una fuga di 10 ore è finita nel peggiore dei modi, la vicenda di Emiliano Palmeri che ad aprile era sopravvissuto a quello che viene definito un attentato, anche se i contorni sono ancora tutti da chiarire, era stato ferito, trovato ferito gravemente da un colpo di pistola da macelleria su quell'episodio e ora ovviamente anche sulla sua morte, indagano i carabinieri. Molti punti oscuri ancora da chiarire, molte domande a cui rispondere per la morte di Emiliano Palmeri. Vedete la foto invece nel taglio centrale, questa foto verticale della Carovana Rosa del Giro d'Italia, festa a Pescara per il Giro che oggi lascia l'Abruzzo, tappa per gli esi, partenza questa mattina dal capoluogo avriatico. Per quanto riguarda invece la lotta al Covid, falsa partenza per la pillola antivirale, farmacie pronte ma manca l'accordo con i medici, salta il D-Day annunciato, la curva continua però a scendere. Nel taglio alto invece troviamo la notizia degli investimenti ingenti di ferrovie in Abruzzo per il raddoppio della Pescara Roma ma non solo, un piano da 6 miliardi da parte del gruppo delle ferrovie dello Stato, mentre a proposito sempre di infrastrutture c'è Assoturismo che chiede risarcimento alle autostrade per l'Italia per i cantieri e per il traffico lumaca sull'A14, un grave problema che soprattutto nel periodo estivo, nel periodo delle vacanze insomma incide molto sull'attrattività della nostra regione anche se, come già avvenuto lo scorso anno, anche per i prossimi mesi estivi Autostrade per l'Italia ha già annunciato il blocco di tutti i cantieri lungo la rete dell'A14. E poi, chiudiamo con quest'altro titolo, la cerimonia Chieti al Teatro Marrucino torna il premio Prisco ma è polemica sul centenario del Chieti Calcio. Le accuse da parte dei tifosi neroverdi abbiamo dovuto faticare per far ricordare la nostra storia. Presente alla cerimonia anche il CT del Nazionale Mancini che ha ricevuto il Prisco e che ha dichiarato brucia il mancato obiettivo dei mondiali. Dunque, questi titoli scelti per la prima pagina del quotidiano Il Messaggero e adesso torniamo al quotidiano Il Centro e sfogliamo dunque le pagine interne. Eccoci alle previsioni ottimistiche per l'estate abruzzese da un punto di vista degli operatori balneari, l'Abruzzo e il turismo estivo, boom di prenotazioni al mare, soddisfatti i balneatori appunto perché dicono di aver già affittato 8 ombrelloni su 10, siamo oltre i livelli pre-pandemia. In questo caso parla Padovano, Riccardo Padovano, presidente della Sib Conf Commercio che si dichiara spiazzato dalle tante presenze dell'ultimo fine settimana. C'è qualche polemica sui prezzi, sui prezzi degli affitti, degli ombrelloni, dei servizi negli stabilimenti, qui si legge che i prezzi sono in lieve rialzo, ma che partono mediamente da 400-500 euro, ovviamente poi ci sono differenze caso per caso. Nel taglio basso, sempre sulle pagine regionali del centro, la pandemia in Abruzzo continua la discesa dei contagi, ieri 503 nuovi positivi, Chietino e Pescarese ancora più colpiti, ci sono altre tre vittime. Altro tema in primo piano che riguarda l'Abruzzo è l'accoglienza ai profughi ucraini, sono oltre 6.500 gli arrivi nella nostra regione, sono 538 le famiglie di sfollati che hanno chiesto l'aiuto di 300 euro per la casa. Nella tabella c'è la ripartizione per provincia, quella che sta accogliendo il maggior numero di profughi, la provincia di Teramo, con 3.044 ucraini, la stragrande maggioranza, circa 2.500, ospitati in albergo. Sono 3.282, si legge ancora nel sommario dell'articolo, sono 3.282 i rifugiati che si trovano nelle strutture turistiche che si sono rese disponibili, nella maggior parte dei casi sono nel Teramano, come abbiamo appena visto. Sfogliamo ancora il centro, non ci soffermiamo sulle pagine dedicate all'attualità interna e internazionale. Arriviamo invece all'articolo dedicato agli investimenti annunciati da Ferrovie dello Stato per la rete abruzzese, oltre 6 miliardi per le ferrovie abruzzesi. Nuovo piano industriale, previsti interventi per il raddoppio della Pescara Roma e sicuramente l'intervento più consistente. Sarà velocizzata la linea adriatica, potenziamento anche per la Terni, Rieti, Sulmona, ma ci sono investimenti anche per le infrastrutture stradali. Ammontano a 1 miliardo e 730 milioni di euro le risorse destinate alle strade, tra cui la Teramo Mare, spunta dunque il quarto lotto della Teramo Mare, evidentemente finanziato da Ferrovie dello Stato, e fondi anche per la Statale 17 che collega San Gregorio a San Pio delle Camere. Quindi molti soldi in questo piano ovviamente non immediato, un piano che si svilupperà entro il 2031, ma ben 6 miliardi per l'Abruzzo. Continuiamo ancora con il centro, c'è l'inserto dedicato al mondo del lavoro, alle offerte di lavoro e ora invece ci spostiamo sulle pagine di Teramo e Provincia. L'annuncio da parte delle Proloco, le sagre ripartono ma con prezzi più alti. Dopo due anni un altro segnale dell'uscita dall'emergenza Covid. Le associazioni sono pronte a riproporre le rassegne enogastronomiche estive, certo però il ritocco al rialzo dei listini. Spiega il perché Sandro Di Addezio, presidente dell'UMPI Abruzzo, vedete qui la sua foto sopra le sue dichiarazioni, costretti agli aumenti perché il costo dei prodotti è andato alle stelle. Qui di fianco una foto d'archivio della Sagra della Porchetta di Campli, una delle più celebri del nostro territorio. E a proposito di queste manifestazioni c'è l'idea della consigliera regionale Simona Cardinali della Lega che propone una fiera regionale del Proloco. L'evento, secondo la Cardinali, sarebbe itinerante nelle quattro province, dunque annualmente una provincia, ogni provincia dovrebbe ospitare questo grande evento che potrebbe mettere insieme tutte le Proloco d'Abruzzo. Nella pagina accanto siamo a Teramo, l'attività amministrativa, lo scontro sui numeri, in particolare sul bilancio del 2021. D'Alberto, contrattacca Conti Sani, puntiamo al 2026. Il sindaco minimizza sui rilievi dei revisori e respinge l'accusa di immobilismo lanciata dall'opposizione. Programmazione straordinaria partendo da zero, dice il sindaco, realizziamo da qui e verso il secondo mandato. Tra gli obiettivi, D'Alberto cita la bonifica dell'ex discarica alla torre che partirà a breve e sarà avviato il progetto per il parco fluviale, ma abbiamo sbloccato, dice, anche parcheggi e TEAM. Dunque, la replica del sindaco all'attacco delle opposizioni circa l'immobilismo della giunta. Ma sempre dall'opposizione c'è un altro fronte che si apre, su alcuni fondi a rischio ne parla il consigliere di futuro in Maurizio Salvi, che dice, serve chiarezza su 500 mila euro assegnati dal Ministero dell'Interno. La questione sarà portata nel Question Time, appunto, in programma giovedì pomeriggio. Rimaniamo a Teramo, l'iniziativa Pinacoteca, porte aperte per studenti e famiglie. Il Comune aderisce alla giornata nazionale dei musei. Domani sono previsti tre appuntamenti dedicati agli alunni di diversi istituti e uno su donne e diritti. Segnaliamo anche l'articolo dedicato dal centro al torneo che domani pomeriggio avrà come scenario lo stadio Bonolis, il torneo per ricordare l'avvocato Sergio Quirino Valente, il cui incasso andrà là il protagonista e le squadre del Comune, dell'Università, dei giornalisti e degli avvocati. Dunque, torneo di beneficenza in memoria di Valente. Proseguiamo sempre sulle pagine del centro. Siamo al BIM. Dopo il voto che ha eletto il presidente D'Alonso, lo stesso D'Alonso direi è convocato alla conferenza stampa per annunciare i prossimi passi. La giunta del BIM sarà aperta al centro-destra, ha dichiarato D'Alonso. Il nuovo presidente annuncia un esecutivo provvisorio di tre assessori per dare le risposte più urgenti e poi lo allargerà a otto. Secondo le indiscrezioni potrebbero entrare in giunta i rappresentanti di Montorio e Giulia Nuova, comuni amministrati dal centro-destra, ma che avrebbero dato il loro voto, ovviamente queste sono indiscrezioni, rumors però non smentite, non smentiti dai diretti interessati, avrebbero dato il loro voto e il loro appoggio a D'Alonso, sindaco uscente di Crognaleto. Ricorre quest'anno il decimo anniversario, proprio oggi il decimo anniversario della scomparsa dell'onorevole Antonio Tancredi, morto il 17 maggio del 2012 e a dieci anni della scomparsa, viene intitolata la biblioteca della Fondazione Crocetti a Roma, proprio a Tancredi, perché la famiglia dell'onorevole del mecenate terramano ha donato la collezione di libri d'arte del politico alla Fondazione Crocetti. Proseguiamo ancora, sempre sulle pagine del centro, l'ospedale di Teramo, Mazzini, le nomina contestate, il primario di cardiochirurgia che proprio ieri ha preso servizio, vedete anche nella foto a destra la firma del contratto con il manager di Giosia e poi nella foto piccola la visita al reparto di cardiochirurgia, parliamo di Santarelli che però ancora, come dire, c'è ancora una spada di Damocle sulla sua nomina perché il caso della sua nomina finisce in procura, è pronta la denuncia infatti da parte dell'avvocato dell'escluso Salvatore Lentini, l'avvocato è Roberto Ruocco che insiste sull'irregolarità della designazione. Una prima pronuncia del Tar ha dato, come dire, ragione alla ASL dicendo che del caso deve occuparsi il giudice del lavoro ma oltre dunque al ricorso al giudice del lavoro l'escluso Lentini ha ovviamente tramite il suo avvocato presentato anche un esposto in procura. Dunque prosegue la vicenda giudiziaria legata a questa nomina. La cronaca nel taglio alto in A14 schianto tra due auto e tiri traffico bloccato e due feriti è accaduto la scorsa notte, anzi nella notte tra domenica e lunedì nel territorio di Notaresco. Leggiamo quest'altro articolo, ci porta Giulia Nova, violenza di genere, sogni dei ragazzi, premiazione del concorso Esther Pasqualoni dedicato all'oncologa uccisa con le scuole protagoniste. Ad Alba Adriatica e siamo sulla costa vibratiana, strisce blu, tariffe invariate, il comune bandisce l'affidamento del servizio per tre mesi, sarà l'ultima stagione con questo assetto del lungomare perché poi partiranno i lavori di restyling di tutto il lungomare Albense. A Nereto via la gara invece per la costruzione dell'auditorium nell'area dell'ex stadio Romeo-Menti, un progetto che viene da lontano e che potrebbe pian piano vedere anche la luce. Martinsicuro invece si prepara al voto del 12 giugno con Capriotti del Partito Democratico che attacca il centrodestra e nascosto nelle liste civiche. Appello agli elettori dell'assessore al bilancio Tom Molini invece, datemi la possibilità di continuare il lavoro con la squadra del sindaco uscente Vagnoni. Abbiamo parlato prima dell'ospedale di Teramo, adesso questo articolo invece si occupa dell'ospedale di Giulianova. Chirurgia e ortopedia continuano ad essere accorpate l'impatto del Covid. Tra le operatori c'è preoccupazione in vista dell'estate, attualmente ci sono solo 20 posti letto, non sufficiente affronteggiare la domanda che esploderà con l'inizio della stagione turistica. Ovviamente c'è il problema anche della carenza di personale che costringe ad accorpamenti, soprattutto nel periodo estivo. Per il direttore sanitario dell'ospedale Paolo Calafiore, passata l'emergenza, tutti i reparti torneranno pienamente operativi. Sempre a Giulianova lutto in città per l'addio a Mazzocchi. Giuliano Mazzocchi, postino con il sorriso, si è spento a 78 anni per una grave malattia, in molti lo ricordano per la sua cordialità nel lavoro. Sono invece previsti oggi i funerali di Stefano Moscatelli, il 35enne morto domenica durante una gita in moto lungo la statale 80 nell'Aquilano, nel territorio di Pizzoli. A Roseto si parla invece della gestione dei rifiuti, il porta a porta affidato alla ditta di Odoro scatta l'affidamento fino al 2026, il Comune ratifica l'esito della gara d'appalto dopo la bocciatura al tar dei ricorsi di due ditte escluse. Nel contratto inserite novità, spazzamento meccanizzato delle strade, eco-isole e raccolta degli inerti. Chiudiamo le pagine della provincia di Teramo con Pineto, il fallimento dell'azienda Mercatone 1 parte l'asta di vendita offerte entro la fine di giugno, i commissari fissano i termini per l'accessione del complesso commerciale, prevista la divisione in lotti per la struttura principale, prezzo base a 1.400.000 euro, per i terreni vicini servono almeno 450.000 euro, una vicenda che ha anche portato alla perdita di molti posti di lavoro per il fallimento dell'ex Mercatone. Chiudiamo con Atri questa notizia che riguarda la sicurezza del Belvedere, c'è una crepa, azione, chiede interventi, replica il sindaco Ferretti, i lavori sono in programma. Leggiamo anche l'apertura della pagina di Pescara perché è dedicata ovviamente all'appuntamento odierno con la partenza della tappa del Giro d'Italia, il giorno della festa rosa, in azione paracadutisti sul mare. Si accende il villaggio in piazza Salotto, passerella sulla riviera e in centro arriva la carovana dei ciclisti. La partenza torna alle 12.20 per attraversare il centro e il lungomare della città fino a Montesilvano e poi la tappa attraverserà tutta quanta la costa terramana da sud a nord per raggiungere le marche. Per l'ex ciclista Stefano Giuliani, pescarese, gregario di Moser, la gara è uno spot per i turisti, una pubblicità incredibile per il territorio, promossi gli organizzatori. Altri titoli dalla nostra regione all'Aquila. Giallo di Ofena, trovato morto l'allevatore un mese fa venne ferito con una pistola, corpo scoperto in un campo da tre amici. In mattinata la misteriosa sparizione sul posto il PM Picuti che potrebbe indagare per istigazione al suicidio. Diverse le piste battute. Il giovane Emiliano Palmeri di 28 anni era minacciato. Questa è una delle domande a cui dovranno rispondere gli investigatori. Il reparto scientifico dei carabinieri si è occupato dei rilievi. Davvero una vicenda avvolta dall'oscurità, quella che ha portato ieri alla morte di questo giovane allevatore. Aquilano. Sempre all'Aquila, la ricostruzione è difficile a 13 anni dal terremoto. Duomo alvia la gara per l'appalto, ma mancano 7 milioni per i lavori. Il segretariato firma la determina, si procede con il bando unico, ma l'intervento sarà in due stralci. Corsa contro il tempo, per ultimare l'iter ad agosto, il cantiere potrebbe ricevere la visita del Papa, che è annunciato in occasione della perdonanza. La cronaca muore nello schianto contro un albero, vittima a un 71enne sulla statale 17, tra scoppito e il reatino. Nessuna traccia di frenate, non è escluso un malore alla guida. A Chieti, cantieri in città, da San Giustino alla Colonnetta, Maxi Lamori da 8 milioni di euro, vicini alla conclusione degli interventi in piazza dell'Aurentis e la riqualificazione della villa comunale. Ma per la ciclabile e lo scalo i tempi si allungano e il rispo li annuncia pronti ad iniziare altre quattro opere. Possiamo ora andare a leggere le notizie sportive del centro, che dedica ampio spazio al Giro d'Italia. La sfida riparte da Pescara e scocca l'ora dei velocisti. Si ricomincia oggi la piazza Salotto, la tappa attraversa la costa terramana, la corsa rosa saluta l'Abruzzo, Ciccone atteso il riscatto dopo la delusione di domenica sulla Maiella. L'arrivo di oggi previsto a Iesi, un Giro d'Italia molto molto incerto, che dopo l'arrivo su Blockhouse vede una classifica cortissima con il primo dieci atleti in meno di un minuto e mezzo di stacco. Passiamo al calcio. Ieri mattina a Chieti la premiazione del premio Prisco. Mancini, il CT nazionale, premiato dalla foto dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. Mancini ha dichiarato orgoglioso di questo premio. Il CT riceve il premio Prisco, con lui riconoscimenti anche per Barella, Mihailovic e Vigorito. Per le nostre società di Serie C invece, Teramo Spinelli, trattativa in salita, si allungano i tempi per l'ingresso dell'imprenditore che aspetta gli ultimi documenti dai commercialisti. Rimane avvolta nel riservo più totale la trattativa sul futuro del Teramo Calcio. Mentre per quanto riguarda il Pescara, pazza idea il ritorno di Zeeman, spunto all'ipotesi del Boemo e del direttore sportivo Pavone, ma solo se la società non dovesse passare in mani. Straniere, sembra segnato il destino di Zauri che non dovrebbe rimanere sulla panchina del Delfino. Anche il direttore sportivo Matteassi è ai saluti dopo una stagione ampiamente deludente. Il basket di Serie B, playoff, il Roseto punta il bis, Torrenova nel Mirino, Quaglia, il coach dice avanti tutta, Aleofilchem alle 20.45 gioca a gara 2 del primo turno, il play Zamponia ancora a KO per un problema al piede. E chiudiamo ancora col calcio dilettantistico di Serie D, domenica l'ultima giornata di campionato, al Chieti basta un punto per festeggiare la salvezza e Nero Verdi occorre pareggiare a Re Canati, mentre per evitare i play-out il Castelnuovo, che la squadra terramana messa peggio, deve vincere e sperare nel passo falso di Montegiorgio e Fano, quindi speranze ridotte al Lumicino. E tutto per quanto riguarda il centro, ora ultimi minuti di rassegna stampa sulle pagine del messaggero. Eccoci al Covid nelle pagine interne regionali del messaggero, il Paxlovid resta in deposito, ma non c'è accordo con i medici, il flop della pillola antivirale, nonostante gli annunci non è iniziata ieri la distribuzione del farmaco della Pfizer. Per Gizzi, rappresentante delle farmacie, dei farmacisti abruzzesi, le farmacie sono prontissime, servono però le ricette con la prescrizione. E poi ritroviamo anche la notizia degli investimenti delle ferrovie in Abruzzo, non solo Pescara-Roma, un piano industriale da 6 miliardi, la D. Luigi Ferraris parla di anche investimenti per la Sulmona, l'Aquila Terni e la velocizzazione dell'Adriatica. Pescara, multe e auto rimosse, il giro saluta la città, anche dunque inconvenienti ovviamente per i cittadini, dalla presenza del villaggio rosa della partenza, alle 12.30 della piazza Salotto la partenza della tappa, raffica di verbali in centro sulla riviera, ciclisti e amatori litigano con i vigili urbani, quindi un po' di disagio queste grandi manifestazioni lo portano sempre. All'Aquila la cronaca ha trovato impiccato il 28enne allevatore che fu ferito con un'arma da macelleria finita nel peggiore dei modi, la vicenda di Emiliano Palmeri. È stato un suicidio questa domanda a cui dovranno rispondere gli inquirenti, dato per scomparso dopo 10 ore di affannose ricerche la tragica scoperta. Dunque, come abbiamo già visto anche sul centro, la ricostruzione della vicenda del giovane che due settimane fa era uscito dall'ospedale e aveva ripreso la sua vita di sempre, pare senza problemi fino al tragico epilogo di ieri. Chieti, polemiche hanno corredato l'edizione di ieri del premio Prisco, polemiche per il centenario del Chieti Calcio che secondo i tifosi sarebbe stato trascurato. Uno striscione critica il riconoscimento tra l'altro consegnato anche ad un giornalista pescarese, ma tra i premiati spiccava la presenza di Mancini che ha dichiarato che ancora brucia e non potrebbe essere diversamente il mancato obiettivo dei mondiali. Siamo a Teramo, trasporto pubblico locale, la rivoluzione di Verna, l'assessore comunale Maurizio Verna. Bus smart e nuove fermate, l'assessore annuncia il programma e si scaglia contro il basso chilometraggio. Stoccate alla regione, non ci ascolta, arrivano display e bike sharing elettrico. Queste le novità messe in campo dall'assessore Maurizio Verna. Mentre per quanto riguarda il BIM, l'ente presieduto da Giuseppe D'Alonso, il BIM si allarga a destra, giunta ridotta all'osso. PNRR e sisma le priorità. Il neopresidente ha svelato il suo programma dicendo che sarà una giunta inclusiva. È pragmatica. Sulla 14 le autostrade devono risarcire l'Abruzzo, così Confesercenti e Assoturismo, anzi Confesercenti e Assoturismo, che è appunto il settore dedicato al turismo dell'associazione di categoria, che boccia lo stop dei cantieri in estate. Non è sufficiente, già l'anno scorso ha mostrato i suoi limiti per il presidente Grimi. Aspi deve pagare la promozione a favore dell'Abruzzo, basta con i messaggi che mettono in crisi operatori e territorio. A Giulianova, invece, sofferenza per i parcheggi. La pista ciclabile sul lungomare sottrae 127 posti auto. Prima domenica con difficoltà. L'assessore di Carlo ammette che per quest'anno ci saranno disagi, ma recupereremo stagli a pagamento sul lungomare ovest. Quindi qualche difficoltà per chi raggiunge Giulianova, soprattutto la domenica, per andare al mare. Chiudiamo con la vibrata ciclabile. Questa è la volta buona. L'opera lunga il torrente vibrata dopo cinque anni e vicina alla fine. Inaugurazione entro la fine del mese. Ultimi titoli dalle pagine sportive del Messaggero. Giro d'Italia. Pescara si tinge di rosa. Oggi partenza di tappa dopo 17 anni. Ciccone motivato dopo il giorno di riposo e dopo la crisi patita sul blockhouse. Formichetti, organizzatore e referente abruzzese di RCS, parla dell'arrivo sulla montagna della Maiella. Un peccato la scarsa affluenza di gente. Passando al calcio, Pescara. Occhi sul bomber dell'Ancona. Rolfini si comincia a programmare la prossima stagione dopo la delusione di quest'anno. Mentre per quanto riguarda il Teramo i tempi per la vendita si allungano. Spinelli pronto a presentare un'offerta per l'acquisto ma vuole valutare anche la gestione economica del club. Ieri Gravina al premio Primisco ha parlato anche della situazione dei Biancorossi dicendo fare calcio oggi è molto difficile. Questo è innegabile. Bisogna anche avere dei progetti chiari. Per quanto riguarda il basket, Roseto stasera in gara 2, playoff di Serie B. Coach Quaglia che sprona. Basta, rischi. Ancora ospite il pallamaggetti. Torrenova. E chiudiamo invece con i dilettanti. Calcio, l'Aquila, Massetti lancia la sfida. Vittoria Dobbligo. Il riferimento ovviamente alla finale playoff di eccellenza di domenica contro il Giulianova. Massetti che ha dichiarato avevo più timore della Torrese che del Giulianova. Quindi c'è grande fiducia da parte dei Rosso-Blu. In Serie D invece Chieti, il tecnico Lucarelli, dice ora serve un ultimo sforzo a Re Canati per conquistare la matematica salvezza. In Serie D è tutto. Terminiamo qui con la nostra rassegna stampa. L'appuntamento con Di Prima Mattina e i giornali è per domani alle 7. Mentre noi ci rivediamo più tardi alle 9 con una nuova puntata di A Colazione. Questa mattina avremo con noi ospite a parlare un po' dei temi di attualità e dei fatti del giorno. Il coordinatore provinciale della Wilm Will, il sindacato dei metalmeccanici Gianluca di Girolamo. Quindi a più tardi alle 9 con A Colazione. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie per la visione!